Oh! Hanno cambiato le immagini? Hanno messo l'esercito di Kadam! Subito Vegeta che si mette di fronte a Bulma per proteggerla. Ma nasconditi dietro una siepe, non rimanere con loro. Eh, bravo! Mi ha ascoltato, eh? Oh, quindi è in grado di teletrasportarsi. Oh! Kaioshin combatte? Oh! Da quanto non succedeva? Uh! Che bello vedere Shin combattere. Soprattutto col corpo a corpo e non con poteri magici. Ragazzi, comunque, quanto è Star Wars tutto questo? Oh, finalmente usa il ki! Allora, Kaioshin non è mai stato così tanto utile come in Daima da quando è stato introdotto, eh? Cioè, neanche in Dragon Ball Z e in Dragon Ball Super Kaioshin era così OP. Un vero nome? Eh? Nahare? Chissà se è l'anagramma di qualcosa, perché conoscendo Toriyama non mi stupirebbe. Altro personaggio visto nel trailer, Peral, che credo che sia l'anagramma di Pearl. Come un appuntamento romantico! Era una balla! Oh! Ma come una pizza coi vermi! Neanche le tartarughe ninja! Ragazzi, un'impressione mia ho questo episodio rispetto ai precedenti e è velocissimo. Cioè, fanno un sacco di cose. Neanche Darbo la c'è riuscito, come avevo teorizzato. Oh! E qua mi sa che si chiude la puntata. Classico. Il prossimo si intitola... Il Tamagami. Oh! Com'è lunga la preview a sto giro! Settimo episodio di Dragon Ball Dime che mette improvvisamente il turbo. Nel giro di 20 minuti succedono davvero tantissime cose, se paragonate ai primi sei episodi, e trovano persino il modo per giustificare questo cambio di registro. Ma ci arriveremo. Al momento in Dragon Ball Dime è presente una cura che definirei maniacale, se non addirittura ossessiva, nel volersi ostinare a raccontare, approfondire e sviscerare ogni singolo nuovo elemento, quasi, inserito all'interno della nuova lore. Non solo ai personaggi, ma di conseguenza anche al pubblico. Tant'è che il motore narrativo di questa puntata è un oggetto con cui abbiamo avuto modo di familiarizzare nel corso delle precedenti. Il collare, che scopriamo non solo Panzi, ma tutti gli abitanti appartenenti al terzo mondo del regno demoniaco, sono vincolati a indossare, pena la morte. E una volta attivato dalla milizia, questo si può trasformare in un GPS che permetterà ai soldati di goma di rintracciare tutti i ribelli e i dissidenti. Ma Kaioshin, analizzando il collare, ci svela anche di più, che è realizzato con il metallo Kachin, il minerale più resistente di tutto l'universo. Questo nome vi dice qualcosa e adesso vi spiego il perché. Anche in questo caso, infatti, non si tratta dell'ennesima retcon improvvisata all'ultimo da Toriyama, eh? Il Kachin lo abbiamo visto per la prima volta nel manga originale di Dragon Ball e nella serie animata di Dragon Ball Z, quando, sul pianeta dei Dei Kaio, proprio Shin lancia un enorme cubo di metallo Kachin contro Gohan, che in pieno addestramento con la Z-Sword o la spada Z, se siete cresciuti a pane e mediaset, avrebbe dovuto distruggerla per liberare il suo nuovo potenziale e, invece, finendo con romperla, finirà con liberare dalla sua prigionia il vecchio Kaioshin. In seconda istanza l'abbiamo visto anche in Dragon Ball Super, infatti nella saga del Torneo del Potere il gran sacerdote costruisce l'arena utilizzando proprio il Kachin. Dato che il Kachin si può estrarre solamente dal Kaioshin nel pianeta natale dei Glindiani, Shin ipotizza che costruire i collari possa essere stata la dottoressa Rinsu, sua sorella, grazie alle conoscenze scientifiche di cui dispone. E con un incantesimo prova a liberare Panzi dalla sua prigionia riuscendovi, e poi dandoci un'altra informazione fondamentale. Si tratta di un incantesimo semplice, che non solo Panzi potrebbe imparare, ma anche tutti immagini e, di conseguenza, dando la speranza di potersi liberare dal gioco della schiavitù del governo. E per la prima volta, dal 1993, quando Kaioshin ci è stato introdotto come la divinità più importante di tutto l'universo, si comporta finalmente in quanto tale. Perché sì, nonostante nel manga originale i tempi della prima comparsa, Kaioshin viene definito il dio sopra gli dèi, il dio della creazione, la massima entità del cosmo, e un essere in grado addirittura di sconfiggere Freezer senza particolari difficoltà e l'inizio della saga di Boo non è assolutamente un livello di combattimento da buttare via. A quanto pare, al di là di telecinesi, telepatia, poteri curativi, teletrasporto, non è che abbia mai fatto qualcos'altro, eh? Quindi non si è mai percepito questo alone di sacralità, cosa che invece sono riusciti a rendere bene in Dragon Ball Super con Beerus, Whis, il Gran Sacerdote e vabbè, lo Zeno. Quindi è bello che in Dragon Ball Dime Kaioshin sia così guardingo, un attento osservatore, uno stratega. E per la primissima volta, correggetemi nei commenti perché magari potrei sbagliarmi, anche un abile combattente perché lo vediamo menare le mani e agire in perfetta sinergia con Glorio in un combattimento dove calci e pugni, oltre agli incantesimi, sembrano avere la priorità. Ed è bello riscoprire e rivalutare un personaggio che, ripeto, al momento della sua comparsa, c'era stato definito davvero molto importante, ma che poi, a conti fatti, non è che sia stato utilizzato più di tanto in quanto tale. Peraltro, in mezzo a questa rivalutazione, scopriamo anche che Shin è il nome che adotta nel mondo esterno per la carica che ricopre, e il suo vero nome sia Nahare. Ora, so che Toriyama è solito inserire giochi di parole, anagrammi e chi più ne ha più ne metta, però non riesco veramente a capire a che cosa potrebbe riferirsi con questo nome, se ha qualche pianta, un frutto, visto che comunque i glindiani da lì derivano. Nel caso, ditemelo nei commenti, che sono molto curioso. All'inizio di questa recensione mi ero divertito a stuzzicarvi mettendovi la pulce nell'orecchio riguardo al repentino cambio di registro che ha fatto sì che la narrativa subisse un'impennata nel velocizzare i suoi eventi. E fa abbastanza sorridere pensare che tutte le problematiche legate al velivolo dei guerrieri Z, come aerei rubati, carico pesante, guasti tecnici, o come quello subito in questa puntata, attacchi nemici, si siano risolti in un batter d'occhio nel momento in cui Goku e il suo gruppo hanno deciso di rubare un aereo alla milizia di Goma, arrivando a destinazione nel giro di un paio di minuti, alla faccia di tutti gli imprevisti e le problematiche che di base hanno temporeggiato questo viaggio per qualcosa come cinque puntate dall'arrivo di Goku nel regno demoniaco. Ora, può sembrare una trollata alla Toriyama perché il suo humor si basa tanto su questo tipo di cose, però io credo che in realtà le motivazioni siano state due. Questo nuovo Dragon Ball riscrive le regole di tutto ciò che noi eravamo convinti di conoscere. Introduce un nuovo mondo, nuovi oggetti, accessori, nuovi elementi come i collari per l'appunto, la magia in sostituzione del ki, il fatto che ci siano tre mondi all'interno di questo regno e poi ancora i glindiani, i nameciani che scopriamo essere demoni in quanto esseri con le orecchie a punta, le spere del drago originale, insomma talmente tanta carne al fuoco che bombardare gli spettatori con uno spiegone unico di 20 barra 30 minuti per una o due puntate avrebbe probabilmente allontanato il pubblico, anche quello più hardcore, perché è davvero tanto da assimilare. Quindi meglio dare il tempo di creare anche un gruppo, di creare delle dinamiche, poco per volta svelarci il tutto e secondo me è stata la scelta migliore. Il secondo elemento è chiaramente una cosa che c'era già stata detta in precedenza. Le differenze sociali da un mondo all'altro del regno demoniaco. Il terzo mondo è quello che ci è stato definito più povero e se ricordiamo com'è il castello di Re Kadam rispetto a quello di Re Goma, riusciamo già a percepire che c'è una differenza di ricchezza e questa cosa ha delle ripercussioni anche ovviamente sui mezzi di trasporto e sulle tecnologie impiegate. Quindi anche questa cosa potrebbe considerarsi una sorta di aperitivo di quello che ci si aspetta man mano che la storia prosegue e saliamo questa scalata sociale di mondo in mondo. Ora c'è solo una cosa in questa puntata che non mi torna e mi ha fatto un po' storcere il naso, ma da quanto leggo in giro è un problema solo per me, nessuno si sta ponendo romande. Da quanto si vince dall'opening e dall'ending, oltre al gruppo di Goku, se ne affianca un secondo dove figurano Vegeta, Piccolo, Bulma e Ibis. Bene, E Kibit! Alla fine della scorsa puntata, quando si pensava che Bulma fosse riuscita a riparare la nave di Shin, stava per partire con Vegeta e Piccolo. E in questa puntata, quando Ibis arriva a reclutarli, li vediamo nello spazio senza Kibit. C'è un brusco stacco, manca una scena. Io immagino, voglio sperare non sia una dimenticanza e quando i due gruppi si riuniranno, Shin magari chiederà che cosa sta facendo Kibit e probabilmente lo scopriremo impegnato in una quest parallela, una missione secondaria. Il mio cuore di fanboy spera sempre che possa essere andato a reclutare Gohan, però non lo so. Il fatto che lui sia assente solo per lo studio, dato che comunque dovrebbe essere stato miniaturizzato anche lui dal desiderio di Goma e non sta facendo niente per interpellarsi su cosa stia succedendo, mi triggerà veramente un sacco, quindi mi auguro che questo vuoto venga colmato quanto prima. E finalmente, nelle battute finali di questa puntata, arriviamo nel villaggio dove distanza il Tamagami numero 3, colui che custodisce nel torace la sfera del drago a tre stelle che impugna un gigantesco martello e ci vengono spiegate anche le regole per provare a impossessarsi della sfera. Innanzitutto bisogna sfidare il Tamagami. In secondo luogo, da quanto, si dice, sarà uno scontro uno contro uno. L'opening ci aveva suggerito un altro scenario. Ultimo ma non meno importante, in caso di difficoltà, prima che il Tamagami ti ammazzi, puoi comunque decidere di ritirarti, di arrenderti. Pansi, nel tentativo di scoraggiare Goku dall'ingaggiare un combattimento con questo essere a metà tra un Tokusatsu e un Super Sentai, perché è davvero a metà tra Kamen Rider e Ultraman, racconta Goku che anche Darbo la tempo addietro ha provato a sfidare i Tamagami pur non riuscendovi. Questo potrebbe suggerirci a quale livello di potenza potrebbero avvicinarsi questi misteriosi avversari. Ma, per parlare dello scontro, io vi aspetto la prossima settimana con il Venerdai. Vi invito a dirmi nei commenti che cosa ne pensate di questo episodio, se il video vi è piaciuto lasciare un like e vi do appuntamento con l'episodio numero 8 settimana prossima. Ciao! Ciao!